La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. Gianluigi Paragone incarna perfettamente quello che era lo spirito positivo del governo giallo-verde. Un governo che non è stato rivoluzionario, ma sicuramente il primo e l'unico negli ultimi vent'anni che aveva in agenda misure in favore del popolo e di contrasto al cartello finanziario internazionale. Anche se lo ribadisco, non erano misure per un contrasto radicale al golpe europeo, ma sicuramente gettava delle basi importanti. Si univano due anime maggioritarie di questo paese. Poi ad un tratto qualcuno ha cominciato a remare contro questo progetto ed è ovvio che ci fossero infiltrati fin dall'inizio, come poi hanno dimostrato le scelte filo-europeiste e a sostegno dei membri del cartello europeo fatte dai 5 Stelle, come il voto alla Fonderlein, la retromarcia sul MES, l'accordo col PD e l'allontanamento di personaggi come Paragone che invece incarnavano la lotta al sistema con la quale i 5 Stelle si erano originariamente presentati agli elettori e dai quali erano stati premiati con enorme successo. La Lega dal canto suo aveva smesso di dare il dovuto risalto ai suoi componenti sovranisti che gli italiani avevano portato dal web al Parlamento proprio per contrastare le politiche vessatorie dell'Unione Europea imposte dalla permanenza nella moneta unica. Che la Lega abbia frenato su questi temi a causa di un alleato che remava contro lo scopriremo dopo le prossime elezioni. Ma quello che andrebbe ripreso subito e nessuno potrebbe farlo in questo momento meglio di Paragone è proprio la fusione dei sovranisti gialloverdi. Lui è stato direttore della Padania quindi da sempre conoscitore della Lega. È stato parlamentare 5 Stelle. Cosa aspetta a sfruttare la sua espulsione per proporsi come trade union degli elettori sovranisti delle due compagini? Aiutando con un suo partito a mandare a casa i golpisti del centro-sinistra e permettendo al tempo stesso alle frange sovraniste del futuro governo post-elezioni di avere maggiore voce in capitolo all'interno dei propri partiti. che potrebbero finalmente affrancarsi dai loro alleati di coalizione europeisti grazie alla pressione di un nuovo soggetto antisistema che non farebbe che crescere fino a diventare esso stesso determinante negli scenari politici italiani. Un caro saluto agli amici di Radio Radio da Francesco Amodeo. La Matrix europea La verità dietro i giochi di potere con Francesco Amodeo